E poi c'è un altro aspetto importante dell'educazione e un'altra domanda. Che ha a che fare con ciò che accadde in Giappone quando una maestra, un'educatrice, Elizabeth Gray Winning, venne chiamata dagli Stati Uniti per educare niente meno che l'erede al trono del Giappone e si trovò davanti in pieno Novecento con una necessità, insegnare a quel bambino che non era Dio. Beh, è una cosa che fa ridere, oggi tutti i bambini sanno di non essere Dio, direte voi. E io aggiungo sì? È così? Siamo proprio sicuri che tutti i bambini non abbiano invece l'illusione oggi nel mondo della grande tecnologia di essere un po' divini? L'educazione forse è questo, insegnarti che sei un essere umano e che non sei Dio.